Ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video. Oggi vi farò vedere come cambiare la candela della LEM 14A. Guardate, qua si toglie la pipetta. Questa. E poi si svita il rullo. Questa. E si toglie poi il rullo della candela. Non è rullo. E quella è la candela. Guardate ragazzi, questa è la differenza fra la nuova candela e la vecchia candela. Guardate. Questa proprio si vede la differenza. Adesso stiamo riavvitando la candela. Adesso vi faccio vedere. Non so di niente. Ok, l'abbiamo riavvitata a mano e adesso la riavvitiamo con la chiave inglese. E poi rimettiamo... E poi rimettiamo la pipetta. Adesso andiamo fuori a provarla. Ragazzi, siamo in un territorio in cui la possiamo usare. Adesso proviamo ad accendere. Adesso. 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 Adesso.